Gita tour in Calabria, a Reggio Calabria, quindi gite a chilometro zero o quasi a chilometro zero. Come vediamo io e i miei partecipanti a questa gita, siamo più di un centinaio, e questa tappa di questa parte del tour prevede che a grande richiesta non si vada in posti già prefissati perché nel programma della gita dovevamo andare in un posto, ma invece a grande richiesta, come ieri, siamo ritornati qua e commentavamo a livello culturale, quindi questa è una gita culturale, attenzione, è una gita anche culturale, economica. Aspettate un attimo che giro le immagini verso il mare, vi dicevo perché è culturale, perché abbiamo osservato come oggi, a questo orario, le colombe sono di meno rispetto a ieri. e quindi questa è una forma culturale, noi ci stiamo istruendo dal punto di vista naturalistico, perché, scusate così non disturbo i masseri che sono più spaurosi rispetto alle colombe. Allora, vi dicevo, rispetto a ieri, ce ne sono parecchie di meno di colombe in questa zona qui, questo è una forma culturale perché noi ci stiamo istruendo anche in senso naturalistico, quindi infatti se voi andate a vedere i profili social Instagram e Facebook che sono chiamati gite non solo naturalistiche, potete vedere come rispetto a ieri ci sono meno colombe, ma in questo caso qua abbiamo imparato come i passeri per stare più sereni, più tranquilli, senza la nostra presenza, noi ci dobbiamo allontanare così si avvicinano. Invece le colombe rispetto ai passeri si spaventano, sì, ma non in modo esagerato come i passeri che magari si allontanano, ci deve essere proprio l'assenza umana. La presenza umana non è accettata secondo la loro, diciamo così, definiamola etologia. Ecco, vedete, ora in questo video ci si sta avvicinando, non è un UFO, quella a destra non è nemmeno un altro UFO, è una destra e il gabbiano, a sinistra c'è l'aereo che si sta avvicinando, quindi venite in massa in queste gite perché ora siamo più di un centinaio in questa gita, chiaramente non si fanno riprendere per privacy e vi saluto. Sono le 14.25 del 24 febbraio 2024.